Ciao a tutti ragazzi, sono i capoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Juventus-Udinese Prendiamo questa partita come una ripartenza dalla sconfitta a San Siro Che purtroppo ragazzi è arrivata Poi ovviamente il parigi contro l'Empoli Che in questo momento sta ancora in zona retrocessione Zona retrocessione ragazzi Veramente una vergogna Non so come possiamo andare avanti Però ragazzi il sogno scudetto diciamo che è ancora vivo Però è difficile Si è complicato tutto quanto Da una sconfitta che potevi evitare Contro l'Inter a San Siro Perché ragazzi nel secondo tempo Chi ha avuto più occasioni siamo stati noi Andiamo un attimo a guardare anzi Le statistiche della partita Nel match contro l'Udinese Però i tiri in porta Abbiamo avuto un tiro in porta Il possesso pala quasi Equilibrato contro quello dell'Inter I passaggi però falli 8 a 8 Vabbè comunque abbiamo avuto un tiro in porta Però nel secondo tempo Lo ripeto Che ha avuto più occasioni Siamo stati noi Con Weah Con Vlaovic Con Chiesa Che è poi entrato nel secondo tempo Però Non si può andare avanti così Perché se pareggi contro l'Empoli Se perdi contro l'Inter Ragazzi è preoccupante Perché se vogliamo vincere sto scudetto E evitate che questi qua rubando I cartonati Vincano uno scudetto Usiamo questo E mettiamo a posto tutto quanto Perché stiamo continuando a fare Come l'anno scorso Ci fermarono i punti E facemmo schifo Facemmo schifo Ragazzi Assolutamente da vincere In questo momento L'Udinese è messo Andiamo un attimo a vedere L'Udinese è messo Sedicesimo Tre sconfitte E due pareggi Nelle ultime Cinque partite Ragazzi È messo a un punto Dalla zona Retrocessione Al Cagliari Che in questo momento Sta a A meno un punto Dal Udinese Ragazzi Assolutamente da vincere Se non vinciamo con l'Udinese Ragazzi Non so come mettere la nome E soprattutto Ancora peggio Se perdiamo contro l'Udinese Il Milan Ci può sorpassare Perché gioca Di domenica sera E soprattutto Gioca contro il Napoli Che ha vinto due partite Due pareggi È una sconfitta Quindi ragazzi È difficilissima Per il Napoli Però sperando in un pareggio Perché se perdiamo Contro l'Udinese Un pareggio Diciamo Ci può andare abbastanza bene Però se perdiamo Contro l'Udinese Il Milan vince Contro il Napoli Significa Terzo posto Terzo posto Dal primo posto Al terzo posto Veramente È un guaio così grande Veramente è un guaio così grande Quindi ragazzi Tre punti obbligatori Vlaovic Svegliati UEA Svegliati Chiesa Ti prego Almeno tu svegliati Palloni in porta Senza fare errore Soprattutto Gatti C'entra Stavolta La porta buona Non fare autorità Che veramente adesso Tutta Italia Ci sta prendendo Per il sedere Ci stanno prendendo Tutti quanti Per il sedere Comunque ragazzi Devo dare un pronostico Devo essere sincero Anche stavolta Penso che ripartiamo E soprattutto Non penso che L'Udinese Possa fare male Allo stadium Comunque Io vado per Juventus 3 Udinese 0 Blaovic Kostic E Gildiz Ragazzi 3 gol 3 punti E ripartiamo Per la corsa Scudetto Ragazzi La corsa Scudetto È una cosa Fondamentale Senza Europa E soprattutto La Coppa Italia Che la mettiamo Un attimo Da parte Però ragazzi Lo scudetto È ancora fattibile Ce la possiamo fare Sperando comunque Che l'Inter Possa scivolare Ragazzi Crediamoci Fino alla fine Crediamoci Fino alla fine Siamo la Juventus Siamo la Juventus Non possiamo fallire Ciao ragazzi Sempre sullo vostro Io vi commentate Condividete E soprattutto Iscrivetevi al canale Ragazzi È fondamentale È fondamentale Perché se non vi iscrivete Non posso portarvi Contenuti Diciamo Con un po' più di impegno Quindi ragazzi Iscrivetevi E soprattutto Fatemi sapere Nei commenti Il vostro pronostico Per questo match Ciao ragazzi Purtroppo ragazzi Sono un po' raffreddato Però ragazzi Continuiamo così Ce la possiamo fare E possono arrivare A grandi cose Se usiamo questa qua Soprattutto Sperando Che l'Inter Possa ovviamente Scivolare Ciao ragazzi